Ben trovati a ZoomIn. Oggi parleremo di ambiente e scuola e lo faremo con il nostro ospite, l'assessore provinciale al turismo e alle attività produttive Ezio Vannucci. Ben trovato, grazie per aver accettato questo invito. Iniziamo con il parlare dell'ambiente. Anche quest'anno sventolano nella costa Terramana le bandiere blu, che sono sette, quindi a riconferma del riconoscimento dello scorso anno. Qual è la soddisfazione? L'ambiente funzionale ha questa grande industria che è in provincia di Terramana e il turismo. Sette e tutta la costa, di nuovo, questo significa le sette bandiere blu. Tutta la costa blu, una costa salubre, una costa vivibile, una costa che può accogliere in una maniera veramente importante il turismo estivo. Ed è, ci sono dei risvolti meravigliosi, soprattutto in questo periodo di crisi, di forte crisi economica. Questo è uno dei pochi settori, quello del turismo, che veramente salva, non solo aiuta, ma salva la baracca Italia. Per la provincia di Terramana è un dato veramente molto, molto, molto positivo. E quindi è un ottimo biglietto da visita. Come lo userete? Innanzitutto devo complimentarmi con i sindaci, perché da Silvi, Pineto, Roseto, Giulianova, Tortoreto, Albarriatica, Martinsicuro, questa è tutta la nostra costa. Se sono di nuovo sette bandiere, il merito è della loro azione amministrativa e della sensibilità dei cittadini e di chi operano in quelle realtà. E so quando è importante, soprattutto poi per loro, perché questa catena di turismo è fatta di sette comuni e nel complesso ne giova tutta la nostra provincia. Quindi è anche una spinta che loro hanno in più per lavorare meglio gli operatori turistici. Sicuramente, sicuramente. Il 10 maggio scorso una delegazione della provincia, tra cui anche lei, ha presentato al Ministero dello Sviluppo Economico una strategia di rilancio dell'area di crisi della Val Vibrata. Quali sono i contenuti? È stato il seguito di una iniziativa che è stata condotta in regia dallo stesso Presidente Catarra, insieme al sottoscritto e collaboratori, per approfondire le problematiche di crisi della Val Vibrata sulla scorta di un'azione forte fatta dai sindacati e dalle associazioni datoriali, che c'è stato un insieme che si è messo proprio a forzare i tempi e a mettersi in campo. La provincia, come sempre, ha fatto un grande lavoro di concertazione, questo è uno dei ruoli più importanti, forse il più importante, che ancora conserva la provincia e ha cercato, unitamente ad altri percorsi di finanziamento, che per quell'area si era già in corsa con il programma del Marche Abruzzo, per quanto riguardava il programma Quadro, che è ancora in fieri a livello ministeriale, di usare una nuova azione, ma di carattere regionale. Ci sono stati dei momenti organizzativi con tutte le realtà produttive in provincia per cercare di valutare quali erano le esigenze. Tutte le associazioni di nuovo, ma le associazioni di imprese con i sindacati abbiamo fatto nei diversi settori una serie di riunioni e abbiamo presentato con sottoleggi di Abruzzo Sviluppo, che ha dato un contributo notevole di sapienza e di capacità, abbiamo approntato una specie di bozza progettuale che è in itinere, da sottoporre intanto in itinere a livello regionale e anche con l'occasione che c'è stata con il ministro Barca, anche a livello ministeriale, l'occasione che c'è stata quando a Pescara è arrivato il ministro, noi abbiamo fatto un incontro con l'ausilio del pregovernatore Chiodi e lì abbiamo approfondito alcuni altri aspetti e abbiamo fatto un passetto in avanti. Ecco, c'è stato un riscontro. C'è stato un riscontro che ci portava poi a livello ministeriale con un appuntamento con sottosegretario di Vincenti, ci saranno ulteriori fasi di lavoro, fra due settimane una piuttosto conclusiva a livello progettuale, sempre a Pescara nell'assessorato regionale le attività produttive con queste associazioni con il quale abbiamo lavorato nella stessa direzione e in attesa di configurare una dotazione economica. Intanto faccio un altro passaggio, aggiungo un altro passaggio, la regione Marche si è voluta inserire in maniera concreta e positiva dentro questa fase progettuale perché un'area di crisi che rappresenta due province, due regioni, un'area di crisi che rappresenta uno spazio piuttosto allargato, hanno compreso che può avere degli input più vincenti rispetto ad altre piccole localizzazioni che rispondono solo a paesi o a un'unica provincia, perché c'è una grandissima difficoltà di acquisire i dati economici. Noi pensiamo adesso in positivo perché unitamente ad altre aree di crisi regionali per le quali già sono state destinate, faccio un esempio, quella della Valle Peligne, dove è stata destinata una posta economica, pensiamo dalla regione Abruzzo e crediamo che quello sia un inizio anche per noi da sviluppare poi con questi altri discorsi nazionali. Parliamo delle bellezze del territorio provinciale, colline terramane, qual è la promozione? Il nostro slogan, credo che lo abbiamo centrato, non lo pensiamo solo noi, ce lo hanno detto in tanti, tutto in un attimo, tutto quello che vuoi in provincia di Tervo è la sintesi della forza e della bellezza della nostra provincia, secondo me, secondo noi, in meno di un'ora c'è il Gran Sasso, c'è un parco bellissimo della Laga, c'è una collina meravigliosa e c'è il mare, fra la montagna e il mare c'è meno di un'ora di percorrenza. Il turista può trovare e trova, ormai anche abituato a camminare, trova tutto. Noi abbiamo messo a disposizione per aiutarla a camminare e anche gita in provincia, questa grande iniziativa che speriamo con l'ausilio regionale dell'assessorato regionale al turismo, di poterlo riprogrammare anche quest'anno. Spieghiamo bene, ricordiamo i contenuti. Dobbiamo dire che questo, soprattutto con l'aiuto dell'assessorato del turismo regionale, abbiamo potuto di nuovo immaginare questa grande operazione che si era fermata al nostro ingresso perché effettivamente un attimino, tra virgolette, onerosa. Però tutti i comuni della costa hanno un'opportunità, la provincia consegna un'opportunità tramite alcuni centri di raccolta nelle aziende di soggiorno che diventano centri di raccolta, alcune città, alcuni comuni diventano centri di raccolta, di portare i nostri turisti, quelli che alloggiano al mare per 10-20 giorni e che hanno anche bisogno di andare un pochino in giro e che vogliono, hanno la curiosità, il desiderio, noi con dei viaggi organizzati, organizzati sia dal punto di vista dei posti dove si può andare, dove si vuole andare, dove noi consigliamo, allora con delle guide opportune, anche con un percorso enogastronomico che è quello che poi sollecita e solletica il palato, insomma. Un altro biglietto da visita. Ecco, un altro biglietto da visita. Quest'anno abbiamo avuto, l'ultimo anno, il 40% in più delle presenze. E questo è un dato importante perché sviluppa un altro elemento importantissimo del turismo, è quella promozione, porta a porta, quella promozione del consegnare all'altro la notizia, del passaparola praticamente. Tutta questa gente, queste migliaia di turisti che ritornano a casa nelle loro regioni e che hanno visto e assaporato il nostro territorio in maniera allargata riportano sicuramente ogni anno elementi in più di curiosità per incuriosire certamente altri. Io la ringrazio, noi ci fermiamo un attimo per una piccola pausa pubblicitaria, rientriamo tra poco. Eccoci tornati in studio, continuiamo il discorso di prima del turismo e della promozione con l'assessore provinciale Ezio Vannucci al turismo e alle attività produttive. Torniamo un attimo alla promozione del territorio. Abbiamo detto che chi è stato in vacanza in Abruzzo poi racconta e quindi è una pubblicità diciamo gratuita che fanno tra loro, però è anche importante sottolineare le qualità dei prodotti abruzzesi, perché ricordiamo la grande partecipazione anche che c'è stata al Vinitaly e anche all'estero l'Abruzzo si è messo in vetrina. Del turismo non se ne parla mai abbastanza perché è un argomento vastissimo, anche in una piccola realtà come la nostra, perché il turismo è fatto intanto di storia, di cultura, di luoghi, di bellezze, di questi luoghi, di borghi, di posti meravigliosi. Noi li abbiamo tutti di ambiente, di ambiente salubre e noi abbiamo anche questo, di montagna e noi abbiamo anche questo. E non se ne parla mai abbastanza, ci vuole tanto e di più per trattare queste ricchezze che effettivamente noi abbiamo, oltre questo mare meraviglioso. Ma poi ci sono i nostri prodotti, la nostra cucina è risaputo che a livello internazionale la cucina abruzzese è una delle cucine migliori del mondo. I grandi chef, i vari gourmet, gli appassionati di cucina, sanno che la cucina abruzzese ha una marcia in più, tratta molti prodotti in maniera diversa. È la cucina terramana, intanto dagli abruzzesi stessi viene riconosciuta come la maestra delle cucine di tutte le province abruzzese, perché la cucina terramana va riegata, vasta, ricchissima, di grandi saperi e di grandi sapori, chiaramente. Il nostro vino, il vino montepulciano, noi abbiamo abbinato dall'inizio questi valori, i valori dei nostri prodotti, all'azione promozionale di questa bellissima terra, perché non poteva che essere un arricchimento, non poteva che essere un acceleratore. Ma non sta a noi dire che da apprendisti stregoni, proprio per quanto riguarda la materia specifica del vino, che abbiamo un vino buonissimo, i grandi esperti dicono che il nostro montepulciano è un vino che sta facendo passi da gigante verso le altissime vette e abbiamo visto quando è importante, come ambasciatore, collocare proprio l'azione di questi prodotti, soprattutto del vino, intanto del vino, ad immagine, a motore della nostra immagine, ma quasi certe volte a immagine stessa. Se tu parli del Brunello di Montalcino ti viene sicuramente subito in mente la Toscana e ormai questo del vino abruzzese, del vino terramano diventa un indicatore del luogo e aiuta tantissimo. Dobbiamo sottolineare che abbiamo l'unico consorzio di OCG di tutto l'Abruzzo, dei grandi rappresentanti che fanno prodotti di qualità, che vengono medagliati quasi ogni anno al Vinitaly e che fanno parte integrante del prodotto vino che sta diventando un colosso economico a livello nazionale. Al Vinitaly noi abbiamo avuto un momento, abbiamo avuto finanziato un bellissimo progetto che si chiama La nascita di un mito, che voleva significare tutto questo, che ha voluto significare tutto questo e ha trovato delle accondiscendenze con delle regioni, che è il Piemonte, che sono le Marche, che è la Basilicata, che è la Toscana, con altri quattro vini, la nascita di un mito che voleva trattare l'argomento vino come indicatore e intanto collegamento fra i vari territori e come indicatore, come azione proporzionale di gusti specifici del territorio. Abbiamo avuto il supporto della regione, abbiamo voluto essere assolutamente dispersivi all'interno dello stand della regione Abruzzo, dove si sviluppavano tutte le attività in squadra. Abbiamo avuto il nostro momento specifico con una grande degustazione, con un personaggio, veramente una specie di treccani del vino del dottor Cotarella, che ha presenziato a questa grande degustazione trattando questi vari vini ed è stato veramente entusiasmante quando si è imbattuto, si è soffermato sui nostri prodotti. C'è da dire che i nostri prodotti sono il frutto di grandi professionisti ormai che ringraziano ancora una volta e che fanno fare bellissima figura alla nostra provincia, ma anche e soprattutto alla nostra regione. Bene, cambiamo argomento, adesso parliamo di scuola. A due giorni purtroppo dall'incidente che ha messo un attimo a repentaglio l'incomità di una studentessa, ricordiamo quello che è successo al Giannina Milli, all'istituto liceale di Teramo, lei si è subito attivato per sollecitare la regione. Parliamo di questo. Noi da qualche anno abbiamo uno scambio epistolare con la regione Abruzzo per quanto riguarda il programma delle scuole d'Abruzzo, decreto 61, siamo in attesa da moltissimo tempo per avere queste somme che sono strategiche e importanti perché se effettivamente molte scuole hanno avuto intanto la sofferenza del terremoto, dobbiamo aggiungere che oltre al terremoto, che non è una cosa da poco, c'è stata anche questa ultima nevicata intanto che ha creato ulteriori problemi, poi un'usura di un patrimonio scolastico ormai obsoleto e non è stato mai rinnovato. C'è da dire che sul fronte delle manutenzioni scolastiche dei capitoli regionali che prima mandavano qualche rivolo da anni non è arrivato più nulla, con il nostro bilancio che è un bilancio risicatissimo che abbiamo spesso allargato perché la straordinarietà delle problematiche scolastiche lo richiedeva, non ci siamo tirati indietro, noi abbiamo cercato di fare il possibile perché non è che si può fare l'impossibile. Quali sono le difficoltà? Le difficoltà sono di natura economica, solo ed esclusivamente di natura economica e noi non siamo un ente erogatore da questo punto di vista perché c'è tutto un percorso, prima ho detto a proposito di fondi che venivano ciclicamente da altre strutture, io di nuovo dico che dico ad alta voce che c'è bisogno che la regione Abruzzo faccia un momento di riflessione e pensi anche alle scuole della provincia di Tero perché non è che si possono, come si dice, ristrutturare da sole. Certo, quindi si appella alla regione. Ci chiedo veramente un po' di attenzione in un settore che coinvolge migliaia di persone addette ai lavori, professori, ma tutte le famiglie della provincia di Tero, se c'è da sveltire qualche cosa, se c'è da preoccuparsi, sì per tanti altri problemi, però c'è da individuare un attimino proprio questo aspetto che è strategico e importante che ormai è rimasto sul tavolo da troppo tempo. Io lo chiedo con forza, con vigore, manderò questi giorni l'ennesimo appello scritto a tutti i politici terramani, come l'ho sempre fatto, nella nostra regione per cercare di interessarsi a questo problema, anche perché se bisogna fare i lavori mi si insegna che si può fare solo nel periodo di fermo scolastico, che è quello estivo. E' imminente. Ecco, certo. Io concluderei con questo appello, con questo appello che lei ha fatto alla regione per la sicurezza, che è importante per i ragazzi che studiano. La ringrazio per essere stato con noi, Zoom In termina qui, come sempre torna domani con un nuovo ospite e un nuovo argomento. Grazie per l'attenzione, buon proseguimento. Grazie per la visione.